Bentornati, fratelli di tuberanza, in un nuovo episodio su Mario Kart 8, in compagnia di Due Qua Quaracqua Che non parlano, va bene, ok? Sono offeso Bene così, l'abbiamo veramente appeso sul serio, ma che c'è una maschera, qualcosa come al solito, che sento la voce strana? No, perché? Forse mi è caduto il telefono, prima ci sarà spostato qualcosa Comunque sia, ragazzuoli, ragazzuoli, prima di cominciare, pollicioni all'insù per supportare questi video E fatemi sapere sotto nei commenti se preferite le partite online oppure contro i bot in cui ci scanniamo io, Giosef e Blazzi Grazie mille Eh, nel frattempo dovevi scegliere la gara, però ci fai aspettare, cioè noi siamo i tuoi ospiti, ci fai aspettare, ma così si trattano gli ospiti sul canale Sì Ah, scusi, non hai ragione, scusi Oh, Gianfra, occhio Fuffi, eh Oh Ma vuoi fare, vuoi dire che maschera ti sei messo, eh? C'ho la maschera della sorella di Giosef Nancori, io non ce l'ho la sorella, mh, va bene, va bene Ce l'hai, Giusef, è pure maiala Ma stai zitto che io non ce l'ho la sorella Aia, aia No, perché sennò con la gente si pensa che ce l'ho veramente la sorella Vabbè, è vero che non è che ci sta niente di male nella mia sorella, eh No, no, lo so, ma non ce l'ho perché altrimenti dici che... dici cattiverie Eh, raga, te lo dico, non ve la faccio buono Quindi che si intende? Sì, ma vedi, non ando un cuscio o niente No, Giusef, ma niente qua No, iau, aiuto Ma ha cambiato set up, Mirko? Sì Perché se no me lo copio pure questo Mi diventa, te lo dì una cosa Che cosa? Se no mi copio pure questo No, no, non ti copio niente, questa volta ho fatto un set up di mio L'ho copiato a Francesca Oh, disponda A Frenchy Dreams Disponda, Giusef, ti è piaciuto? Giambra, non ti arriva un... Oh No, Giusef, non dire queste cose Giusef Non dire queste cose Oh, che ho detto di male Non dire queste cose Allora, Giambra, non la vuoi in bocca? Dove la vuoi? Aia No, cazzo Preso in pieno Giambri Oh, mamma Che ti è Giusef Mi dovevo proteggere Aspetta un attimo Giambra Ecco qua Mi so fermato apposta per dartenne due Me ne sono reso conto Apprezza 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 il mio gesto Ah, capo pure tu Capo una d'oro Ecco qua Ma con chi c'era Giambra? Ma Giusef, mi sono fermato Ma che sa tu sei? 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 Ma com'è possibile? Ma nonna mia Ma che? Ma Ma no Aspetta, ma io No, no, no Non è Ma ragazzi non lo so Sono illegale Può darsi Cioè Nintendo No, vabbè stai facendo qualcosa No, vabbè stai facendo qualcosa No, vabbè stai facendo qualcosa In cui mi innervate eh Sì, va buono Sì, vabbè ma Com'è possibile che fine a due secondi fa ero secondo e mo mi ritrovo quinto con 10.000 persone davanti Perché se è scasso Sì Adesso Giusef maledetto Ho vinto? Parla dietro No, non dirmi che ha vinto così Gianfra fermiamolo Cioè ragazzi? Uniamoci una volta tanto Ma no Ma non Gianfra Ma che pendito che sei Mirko ma tu non sai quello che è successo Bravo Blasi Mirko tu non sai quello che è successo Bro Gianfranco era in terza posizione Gli hanno dato il pallottolo Giocare con la maschera è davvero di ciccissimo Ma chi è quello? Eh? Ma chi è quello? Mirko ma chi è che si è aggiunto? Ma chi era? Se ne è andato oddio Ma chi era? Ma chi era quello? Ma non lo so ragazzi Chi è? Ma chi è andato pure via? Ma io non ho fatto in demma vedere neanche le sembianze Ma ha salutato e se ne è andato Bro ma che è un fantasma? Ma che è? Non lo so regà Ma chi era? Niente Comunque raga Io avevo la maschera di Bowser E sto giocando con Bowser E ovviamente vi ho distrutti Ma che c'entra Ok Capito? Oh la fresca di comadre È arrivato il momento Prima posizione Speriamo di mantenerla Oh regà Se mo ne arrivo primo senza la maschera vuol dire che la devo rimettere? Sì direti sì No c'è Che rabbia Momenti di stizza I diversi silaranti di Gianfranco sono No quelli che mi piacciono di più di Gianfranco sono Ehi Ehi Cosa? Quelli da che proprio di Gianfranco parte tantissimo Quando sta per cadere soprattutto lo fa Sì Oppure mi ricordo la prima volta che li fece Gianfranco Io rimasisco in volto Eh La fresca di tua zia Guarda quel Questo uscio verde Era il mio Stava da tre ore Stava da tre ore che lo evitava Mamma mia Oh T'ho beccato con due gusci verdi E questo te lo ho mangiato prima Ma Ma vieni in volo con questo Sono un artista bra Sono un artista No Guscia blu Guscia blu Ah sì Ragazzi sì L'ho spedito via C'avevo il claxon Magniate poterà Che schifoso Mangiate l'interno Mettilo qua Un altro cosa Vai C'ho l'altra protezione Magniate Che scandalo Che tarallo che vi mangiate Mamma mia Questo tarallo com'è ragazzi Mi dite com'è E' buono Stai attento Per capire Gianfranco Sta uscendo tutto il La volgarità che è lui Guarda Oh Comunque è incredibile Sto secondo Non mi sta dando altro che Turbo E' gusci verdi Lo sapevo C'è Dovrei avere un guscio rosso Perché come ti do Piace No Niente Godo 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 Guarda Guarda come sono distante Sono protetto Sono protetto Questa è la città dove si gode Cioè me li ha dato adesso Tre gusci rossi Regà Me li ha dato adesso Quando Joseph era già arrivato Bellissimo Bellissimo Oh Come 25 Scusami Ma quante gare abbiamo fatto Fino a mo Due No Ma no Ma io che sono arrivato terzo Ah perché sono arrivato terzo Per colpo di Gianfranco Prima No Bravo Gianfranco Ma no Gua Gianfranco Comunque se io non la vingo Per colpa tua Sta Sta sessione Guarda comunque vengo Fino a casa tua Di lanci il controller Dietro la testa Oh Che è sta violenza Giuseppe Ma infatti Con amicizia Con amicizia però Non ti permettere 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 E prima ha detto Che non possiamo ridire Mirko veramente Quella cosa bippala Fidati Ma che cosa Oh Ah che ho detto Eeeh Ah Fidati Ma che significa Gianfranco Comunque mi volete far fuori Io non vi Non vi darò questa soddisfazione Vi batterò Mi prenderò sul campo La mia vittoria Cioè avete presente Tipo il mondo pokemon Dove qualsiasi Digi o qualsiasi cosa Alla fine si rivolge Guarda Per il mondo pokemon Ti conviene parlare Direttamente con Gianfranco Perché lui l'esperto Eeeh Vero Vero Perché lui Fa Fa le guide Su pokemon masters Quindi E' un vero Pokemon masters No a parte gli scherzi Gianfranco E' un bel gioco E' un brutto gioco E' un brutto gioco E manco va bene Giuseppe Saluto ma assorata Peccato Ti ho peccato Ti ho peccato Ti ho peccato No No Sì Mamma mia Gianfranco Che trick Che ti ho fatto Però No Tornate indieto Tutti e due Dove va Ma dai Che festo di ma No Dai Guscio blu Gianfranco Che festeggi Che sei primo Guscio blu Veramente Si Gianfranco Sta arrivando Veloce Veloce dammi qualcosa Ma ha riditto Cassa Cassa Gianfranco Ma ti sei fatto Andando avanti il bot Sì Eh Vabbè Ecco qua Ecco qua Ma come sono quinto Questo è un gioco Buggato E' un gioco Buggato Questo gioco E' buggato In chiulos No Dove è buggato Gianfranco Per capire Oh Bello così Bello così Belli così Questi cusci verdi Di sponda Se non mi Gianfranco Se hai imparato di sponda Dici sempre così Ma era di sponda Ma che è Ah Erano di sponda Veramente Va bene Vabbè E tira sto cuscio Oh mamma mia No Mi ha preso Ragazzi non vi ripresentate con un cuscio blu un'altra volta che mi ha raro Sì cuscio blu Gianfranco sta arrivando Gianfranco Non ci credo Gianfranco sta arrivando Te lo giuro Ma è follia Ma è follia pura questa roba Benvenuto nel club Eh vabbè dai No Gianfranco è andata bene Mannaggia Ma è follia Ma spingi E' follia questa Spingi Guarda noia Non mi devi ripresentare No Giuseppe No Giuseppe Tutta colpa tua Regà Ho rimesso la maschera E sono arrivato primo Allora bro Devi avere la maschera Mi sa Comunque Gianfranco è terzo La sua solita posizione naturale Quindi L'ordine è stato ristabilito Ok Quindi tutto nella norma Sono il più sfigato col guscio blu Me ne sono beccati due Durante questa gara Vero Vero Gianfranco Mai successo Mai successo Finalmente Adesso hai capito che cosa si prova? Adesso lo hai capito? Spero di sì Ma mai è successo nella storia di Mario Kart A beccarsi due gusci di seguito Nella stessa gara No 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 Quindi vi ho detto Non è destino che vi arrivassi primo Che vi ho un grande dominato Mirko Fai la battuta Fai la battuta Giuseppe Stai parlando da solo Nessuno ti sta cagando Fai la battuta Falla Tanto lo dirai Nel corso di questa gara Mi è piaciuta molto di più Però questa è quella risposta Della sorella di Gioseppe Ecco qua Che divertente È bellissimo Ehi Giuseppe Ormai lo sei pure tu Te ho sembrato Vero ci gioca Vabbè Vabbè Gianfranco Tu sei puntato Vabbè Annaggia Mirko Che combini Con questo guscio Due banane C'è Ma con tutto il bene Che me ne devo fare Di queste due banane Oh no Gianfranco Gianfranco Che ci vuoi fare Con queste banane O facci piano Eh Ma te faccio Vero Ti è te Giuseppe Niente Non ho detto Oddio Gianfranco Vuole farmi qualcosa Nell'interno Nell'interno Ti supero Ho messo due banane Strategiche Raga Ma che butti e fatti I cusci sulle banane Domanda Per salvare a te Gianfranco Ti volevo Far colpire Ringraziami Questi sono gli amici Vedi Regà è inutile Che mi tirate I cusci rossi Non funzionano Mannaggia La miseria Non l'ha preso Ma non so come sia possibile Perché c'era il fulmine Ma nonnaggia Miseria Lui è quella maschera Vedi se se la toglie Non me la tolgo mai zio Ma che la scoperta Ma che tensione Gianfranco Ma ti togli Ma che vu No L'ho mancato per pochi Oh yes Baby 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 Sì Queste sono le frasi Di conquista Di Gianfranco Oh yes Baby Una banane Banana No Gianfran Raga Non ci credo Gussi Ma io sono arrivato No Fai così No Sono arrivato quarto Aspetta 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 No No Di un punto Gianfran Sì Meno male Ma non pensavo Di essere arrivato Sotto Gianfranco Gianfranco Di un punto Sono arrivato terzo Perché Ma ti rendi conto Che sei arrivato terzo Di un punto sotto Perché mi ha beccato Il guscio blu Che sono passato secondo Perché tu ce l'hai andato Sì No Che sfiga Almeno tre gusci blu In una sessione Di gare Cioè Ragazzi Veramente Veramente Quattro gare Tre gare Ho usato la maschera Tre gare Sono arrivato primo Una gara Che non ho avuto la maschera Sono arrivato Secondo Vero 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 Questa maschera qui Raga Ve la vendo Perché questa vi fa essere potenti Nei tornei 100.000 euro Il codice IBAN IT 1 2 3 stella Asterisco Insomma Ragazzuoli Economica Io vi ringrazio L'ordine è stato Apparentemente Ristabilito Joseph Mangia il tarallo Come in tutti gli altri episodi Di Mario Kart Forse Giuseppe Cosa si prova Cosa si prova Io ero il master Di questo gioco Però adesso Gianfranco Lui ha preferito Darsi a Pokemon Masters E di conseguenza Questo è il discorso Quindi perciò Arriva terzo Giuseppe Non è che devi stare sempre a via in giro Però Cioè Va bene Qua facciamo le campagne Tu l'hai fatto fino a in buio E tu come si sente No Cioè Facciamo le campagne Contro il bullismo E tu bullizzi E no No Non dico sì La gente no 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 Tagliere queste cose No La gente Non crede questi fatti No 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 Siamo amici Ragazzi Joseph Non è un bullo È un bullone Esatto Questo è un piacere Ciao Rido sempre Ciao Ragazzuoli Noi ci vediamo con i prossimi video Che vedrete Non solo qui su Tuberanza Ma anche sui canali Dei ragazzuoli A parte Blaziken Che è impegnato Con altri giochi Pokémon Ciao Ma veneti